problemi riguardo l'accesso a fortnite su playstation 4 ovviamente l'errore è di oggi del 3 di maggio alle 13 e 19 c'è chi ha avuto problemi sulla playstation 4 che non avete più l'accesso ad accedere nel vostro account di fortnite e giocare quindi fortunatamente è un errore temporaneo e non è per sempre quindi bisogna aspettare un paio di ore non fa male a nessuno non giocare per un paio di ore a fortnite quindi aspettiamo in descrizione ti ho lasciato pure il link che ti porterà sulla pagina dello status di fortnite questo stiamo indagando quindi stiamo indagando su un errore per cui i giocatori su playstation 4 non hanno il permesso di giocare a fortnite e stiamo lavorando a una soluzione adesso per quelli invece che hanno il problema su pc in alto a destra c'è la guida definitiva di 5 minuti su come risolvere il problema riguardo a chi non ha i permessi privilegi per accedere alla cartella di fortnite e giocarci quindi ti consiglio di guardare la guida in alto a destra nella scheda quindi l'errore è questo quindi il problema di accesso a fortnite su playstation 4 stai tranquillo è un errore temporaneo che risolveranno al più presto quindi grazie a tutti per questa visione per il vostro tempo e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao